Buonasera a tutti e bentrovati a questo ennesimo appuntamento con i venerdì della cultura. Iniziamo questa settimana con tre appuntamenti, uno di seguito all'altro, che saranno dedicati ad approfondire la storia di Gesù. Questa sera si parlerà dell'approccio biblico insieme a Don Michele Marcato, direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, Giovanni Paolo I. Seguirà poi un appuntamento il 12 giugno e uno il 19 giugno, che serviranno ad approfondire le questioni ermeneutiche e poi l'ultimo appuntamento, il processo a Gesù. Ricordiamo che in ottemperanza a quelli che sono i provvedimenti di emergenza anti-Covid, anche questa conferenza va in onda in streaming e in diretta Facebook e potrà poi essere rivista anche collegandosi al nostro sito internet www.fondazionecassamarca.it accedendo così alla registrazione che sarà caricata su YouTube. Anche questo evento, come tutti quelli di questa serie, è sostenuto dalla società Carlo Alberto SRL. Nel dare il benvenuto quindi all'ospite di stasera Don Michele Marcato, gli passo la parola e buon proseguimento. Grazie, buonasera, ben trovati. La storia di Gesù è il tema che mi è stato affidato e che affronterò a partire dal testo della Sacra Scrittura, della Bibbia. È un tema affascinante che ha interessato generazioni di studiosi, ma anche generazioni di persone molto semplici, che hanno cominciato a leggere il testo della Bibbia. Io farò proprio questo. Inizierò dal testo biblico, in particolare dal primo scritto nell'ordine in cui lo troviamo nel Nuovo Testamento, il primo scritto che ci parla di Gesù, il Vangelo di Matteo. Nella Bibbia, la Bibbia cristiana, dopo i libri dei profeti, troviamo esattamente il Vangelo di Matteo, che non è il primo storicamente ad essere stato scritto, ma è il primo nell'ordine cosiddetto canonico. Cosa troviamo come presentazione della storia di Gesù? Leggo proprio i primi versetti. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. E poi comincia Abramo, generò Isacco, eccetera. Non vi leggo tutta la genealogia, ma è evidente dal primo approccio al Vangelo, al Nuovo Testamento, che Gesù, presentato come Cristo, che è la parola greca trascritta in italiano, che significa Messia, che traduce l'ebraico Mashiach, è presentato come il Cristo, il Messia atteso, figlio di Davide, il re, il primo grande re di Israele, figlio di Abramo. Quindi Gesù è esplicitamente collocato dentro alla tradizione vetro-testamentaria come uno del popolo di Israele. Questo fatto abbastanza ovvio e scontato, ho scoperto non essere per nulla scontato. Mi raccontavo un amico ebreo che parlando con dei cristiani, diceva Gesù è ebreo. No, Gesù non è ebreo. Come Gesù non è ebreo? No, sono gli studi moderni che dicono che è ebreo. E lui diceva giustamente, no, scusa, è il Vangelo di Matteo che lo dichiara. Infatti, il Vangelo di Matteo, l'abbiamo sentito, mette non solo nella tradizione dei discendenti di Abramo, Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele e Giacobbe, per cui gli israeliti, gli ebrei, nella tradizione biblica, sono i figli di Israele, i figli di Giacobbe, ma addirittura dentro una delle tribù, quella principale, di Giuda, da cui è nato il re Davide. Quindi non c'è dubbio che leggendo semplicemente il Vangelo, il Vangelo di Matteo, noi arriviamo ad avere un'idea immediata di Gesù come un uomo che è nato all'interno dell'ebraismo. Interessante che ci sono stati secoli di studi sulla storicità di Gesù, sul Gesù storico, ma se noi restiamo da quello che dicono gli evangelisti, scopriamo delle cose che sono davvero interessanti. Allora, ho letto alcuni versetti primi del Vangelo di Matteo. Vi porto, e sarebbe bello avere anche il testo sotto mano, ma casomai poi potete riprenderlo con calma, al terzo evangelista, Matteo, Marco, Luca. Il terzo evangelista è che, come dice lui stesso, non è uno dei testimoni oculari, non è stato discepolo diretto di Gesù. Nei primi versetti del suo scritto, del suo primo scritto poi dirò, anche del secondo, dichiara in maniera evidente chi è, perché scrive, con quale metodo scrive e con quale finalità, in maniera lampante. Leggo Luca, capitolo uno, i primi versetti. Poiché molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin da principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Ecco questa introduzione al Vangelo di Luca, che tra l'altro non dichiara mai di chiamarsi Luca, ma è stato riconosciuto nella figura di Luca, ma non appare mai in tutto il testo il suo nome, ma si capisce chiaramente che è una persona che non è stato testimone oculare, perché dice trasmessi a noi da coloro che furono testimoni oculari, è uno che fa una dedica a un tale Teofilo, di cui non sappiamo con certezza. Il nome vuol dire amico, amante di Dio, potrebbe anche essere un nome che indica chiunque sia alla ricerca di Dio, chiunque ami Dio, può sentirsi destinatario di questo mio scritto, oppure può essere un personaggio reale, magari di una certa importanza, perché gli storici dell'epoca, parliamo del primo secolo dopo Cristo, questo probabilmente attorno agli anni 85, 80-85, erano abituati a fare delle dediche a delle persone di rilievo illustri. Quindi mettiamo che sia anche un nobile, una persona di cultura, di un certo ceto medio-alto, a cui l'evangelista dedica questo scritto. È tipico di un uomo di cultura buona, molto buona probabilmente, comunque medio-alto potremmo dire, è l'autore del Vangelo, che dichiara che più persone hanno già messo mano a raccontare i fatti che lui stesso rinarrerà e che ha fatto ricerche accurate. Come fa uno storico? Uno storico verifica accuratamente i dati che ha a disposizione e dice li metto in ordine anche, un resoconto ordinato, ma poi dice anche che non lo fa per un interesse semplicemente storico, ma per un interesse di fede, perché tu ti renda conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Allora, è chiaro, un autore di una cultura medio-alta, beh, lo si capisce anche dal testo in greco, ovviamente letto in traduzione non si coglie, però il greco è un greco buono per quell'epoca, greco coine, greco comune, non greco classico, però nel greco diffuso a quell'epoca, detto coine, è considerato un livello abbastanza alto, quindi di cultura elevata, che dedica la sua opera a un personaggio importante, a noi non noto però evidentemente lui lo conosceva, e che si comporta da storico, dichiara di procedere come uno storico, ho valutato accuratamente tutte le varie testimonianze, ho ricostruito in maniera ordinata un resoconto, obiettivo chiaro, perché ti renda conto della solidità degli insegnamenti ricevuti. Quindi, un uomo di buona cultura, che fa un'opera di tipo storico, con un procedimento di tipo storico, quando dico questo ricordiamoci, non possiamo valutare il metodo storico di allora con i criteri della storiografia attuale, però per allora era un metodo che voleva essere anche molto rigoroso, che però fa tutto questo non con lo scopo di informare dal punto di vista semplicemente storiografico, ma per sostenere nella fede uno che evidentemente è già credente, la solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Dunque Luca è riconosciuto come l'autore che più procede come uno storico, nel raccogliere i dati, e programma la sua descrizione dei fatti in due volumi, il Vangelo di Luca, Terzo Vangelo, e Atti degli Apostoli. Vi leggo anche l'introduzione ad Atti degli Apostoli, che notoriamente, ormai tutti gli studiosi sono d'accordo nel dire questo, è ritenuto il secondo volume di un'opera unica, pensata da Luca insieme. Luca e Atti degli Apostoli. In Atti degli Apostoli, sempre all'inizio, troviamo esattamente questa affermazione. Nel primo racconto, Atti 1.1, Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. sentite che chi scrive esplicitamente richiama il primo volume e esplicitamente riassume dagli inizi fino all'ultimo episodio raccontato in Luca, l'ascensione, l'ascensione di Gesù al cielo dal Monte degli Olivi presso Gerusalemme. Qui è difficile perché non avete il testo sotto mano, ma se andate a rileggere tutto il Vangelo di Luca, troverete che non c'è scritto da nessuna parte, in tutto il lungo Vangelo, 24 capitoli, che Gesù abbia scelto gli Apostoli per mezzo dello Spirito Santo. Si dice che si era ritirato in preghiera, anzi Luca dice che prima di ogni cosa importante Gesù si ritirava in preghiera, magari durante la notte o al mattino presto, e poi si dice anche che prima di scegliere i suoi, gli Apostoli, si era ritirato in preghiera. Non si dice per mezzo dello Spirito Santo. Vabbè, può aver detto tutto. E questa particolare mi serve per far notare che lo storico Luca, diciamo così, in realtà legge e rilegge gli stessi eventi fornendo man mano delle nuove chiavi interpretative. I fatti sono quelli, ma la chiave interpretativa nuova è non te l'ho raccontato, ti ho raccontato narrativamente che Gesù pregava e poi dopo aver pregato decideva cosa fare, in questo caso era la scelta degli Apostoli. Ma dopo che hai scoperto che Gesù è morto e risorto, quindi hai letto tutto il racconto, e hai sentito parlare dell'opera dello Spirito Santo, ti dico guarda che anche quella scelta di allora è stata fatta per opera dello Spirito Santo. È una lettura chiaramente di fede. Ecco, questo è il punto fermo e anche il punto problematico per poter ricostruire la storia di Gesù. ossia, noi abbiamo degli autori che non abbiamo motivo di dubitare che abbiano fatto un lavoro sincero di ricerca per ricostruire le vicende di Gesù e poi Luca nella fattispecie anche quelle della Chiesa dall'ascensione in poi fino all'arrivo di Paolo a Roma, scusate. Ma leggono tutto questo dalla prospettiva di un credente. Luca è dichiaratamente credente, riconoscere l'azione dello Spirito in una certa cosa non è per niente scontato, non lo puoi mostrare scientificamente. Quell'azione è stata ispirata. È una lettura di fede. E questa lettura di fede nei secoli in cui in qualche modo l'illuminismo, l'approccio positivistico, eccetera, hanno messo in discussione tutti i dati rivelati, ha portato a dire non è affidabile uno che ricostruisca la storia rileggendola nella fede. Questo è un dato che, grazie a Dio, oggi è superato. Perché? Perché non è vero che perché un fatto è riletto nella fede non abbia nel suo fondo qualcosa che è storicamente solido. Allora, la rilettura di fede ovviamente è libera e non è imponibile. Non posso imporla a nessuno. Ma il fatto che io rilegga nella fede un episodio capitato storicamente per il solo fatto che io la leggo, la interpreto, ne colgo il senso alla luce dello spirito non dimostra che il fatto non ci sia stato. Io uso a volte la testimonianza di un seminarista. Io insegno anche allo studio teologico del seminario di Treviso Vittorio Veneto e sono stato anche formatore di seminaristi e a volte fanno delle testimonianze molto belle con linguaggio calcistico è una delle testimonianze più simpatiche. Il signore testimonianza del ragazzo è entrato nella mia vita con un intervento a gamba tesa intervento a gamba tesa a calcio vuol dire un intervento che ti e allora dici ma è sto signore che gioca a calcio con un intervento a gamba tesa poi nella testimonianza dice era successo che un mio amico era morto in età giovane e quel fatto dolorosissimo questa è una testimonianza vera tra l'altro quel fatto dolorosissimo mi ha messo così in crisi che ho cominciato a farmi delle domande ho scoperto nella fede delle risposte a queste domande e ho cominciato a interrogarmi e ho scoperto che il signore mi stava chiamando non so se si possa dire che entrare a gamba tesa essendo un'immagine calcistica e che è una rilettura di un fatto il fatto reale è che quella persona è morta ed è reale che quella vita di quel giovane si è cambiata è reale che lui abbia letto quello come pur una cosa dolorosa cioè entrata a gamba tesa non è che uno la desideri nella vita e l'abbia attribuita a dio in maniera provocatoria però accogliendo come un'occasione per cambiare non toglie la verità storica del fatto la rilettura l'interpretazione quello che ha provocato nella sua vita è di peso dalla sua libertà che si è orientata a riconoscere quindi questo testo e questo esempio è abbastanza semplice ma interessante quindi Luca è tipo quel seminarista che rilegge dei fatti alla luce della fede vorrei portarvi dopo aver fatto un accenno al Vangelo di Matteo a quello di Luca che è il terzo evangelista a quello che è considerato il quarto Vangelo quello più in assoluto il più teologico Giovanni è quello che ha un linguaggio elevato fin dall'inizio leggerò qualche passo del prologo è quello che viene definito Vangelo spirituale perché tutto quello che dice ha anche un valore simbolico che va oltre la semplice descrizione dei fatti ed è anche uno degli ultimi Vangeli che sono stati scritti quindi attorno al 90 insomma hanno più hanno meno quindi con molto tempo passato dai fatti in una sessantina d'anni questo Vangelo che è definito teologico spirituale con un linguaggio simbolico per cui se leggete le nozze di Cana un episodio notissimo no? le nozze di Cana si racconta di due giovani che si stanno sposando e manca il vino e Maria interviene a chiedere a Gesù guarda che si rovina la festa e se lo leggete con attenzione vedrete che non si parla mai della sposa un racconto di un matrimonio in cui non si parla della sposa non la si nomina non la si descrive è un racconto fallimentare voi andate a vedere beh in parrocchia capita di vedere i ragazzini e le ragazzine che quando c'è un matrimonio com'è 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 la sposa la prima cosa che è solo noi preti che ormai non ci accorgiamo ma tutti gli altri dicono la sposa era vestita così colà e quindi un racconto di un fatto come un matrimonio una festa di nozze che non preveda di descrivere la sposa è un racconto malfatto verrebbe da dire oppure questa è la risposta che si dà il Vangelo di Giovanni non era interessato principalmente a descrivere una festa di nozze ma a raccontare come Gesù lo sposo messianico manifesta tutta la sua abbondanza sovrabbondanza in una quantità di vino cinquettolitri cinquecento litri circa di vino cinquecento seicento litri di vino che non so quanti fossero però con cinquecento litri di vino una sagra di migliaia di persone non un gruppo di familiari per le nozze esagera dunque il Vangelo di Giovanni chiede esplicitamente di essere letto in maniera simbolica la mia domanda è è solo un racconto inventato che va letto in maniera simbolica o ci può essere anche un fatto reale che però viene raccontato non per descrivere i particolari ma per dire il valore simbolico che ha la domanda è legittima e se la sono posta in tanti nei secoli in tanti hanno detto no guarda Giovanni scrive bene scrive in maniera anche semplice come greco è un greco lineare a volte è un po' complesso nel procedere però a livello di traduzione greca appena si fa il corso di greco base si dà un testo di Giovanni e anche gli studenti riescono a tradurlo perché è un greco abbastanza semplice bello spiritualmente nutre teologicamente straordinario però simbolico non è storico si dice si diceva non lo si dice più perché quando avendo la grazia di poter spesso andare in terra santa a guidare pellegrinaggi adesso il prossimo ci è saltato ma speriamo che si possa riprendere vai lungo il Giordano e da Israele si vede di là del Giordano in Giordania oppure se si va in Giordania si vede il luogo di Betania al di là del Giordano trovata con tutta una serie di scavi che dall'epoca bizantina testimonia che lì in quel luogo si ricorda che cosa il battesimo di Gesù e i primi episodi raccontati da Giovanni il quale dice questo avvenne in Betania al di là del Giordano sono fatti che hanno un riscontro archeologico cui luoghi erano stati dimenticati sono stati tutti scavati c'è una bellissima basilica della prima epoca bizantina con l'abside che si apre su una sorgente l'abside di solito è chiusa in quel caso guarda a oriente e dall'abside si entra nella sorgente si entrava adesso però è stata ritrovata Giovanni in verità che è il Vangelo teologico Vangelo simbolico Vangelo spirituale dà riscontri geografici precisi altra cosa andate a Gerusalemme vicino alla spianata delle moschee l'alto nord era la spianata del tempio ci sono delle vasche di raccolta dell'acqua e una di queste è divisa in due due vaccini probabilmente per decantare l'acqua raccolta della pioggia c'era una prima vasca a nord e una un po' più a sud con una divisione in mezzo ma profondissima e nel Vangelo di Giovanni si trova che Gesù guarisce un paralitico che era presso la porta delle pecore ed è lì dove c'è questa piscina detta probatica dal termine probata e proprio lì c'è una descrizione stranissima c'erano cinque portici attorno a questa piscina cinque portici come è fatta a Pentagono e scava e cosa si scopre che i portici erano uno due tre quattro e uno sopra costruito sopra al muro diciamo così alla diga di separazione tra il bacino nord e il bacino sud poi si dice che quel paralitico era lì e voleva guarire e Gesù dice vuoi guarire? eh sì vorrei ma ogni volta che l'acqua si muove io faccio per entrare ma siccome ho il suo paralitico arriva l'altro prima di me e non riesco a guarire quindi c'era un'acqua che veniva considerata capace di risanare a prescindere da Gesù e scava e cosa si scopre? un tempio pagano di Esculapio Serapide con delle vasche perché evidentemente c'era un'acqua che sarà stata termale che ne so io di solito venivano costruiti questi tempi dove c'erano delle acque con qualche proprietà curativa attribuita a qualche divinità all'epoca e quindi il dato giovanneo che è raccontato non per informarci di cosa c'era lì ma per dirci dell'esperienza di fede di quest'uomo in realtà ha un riscontro archeologico perfetto preciso allora la domanda è ma è vero che i racconti che hanno un'intenzionalità teologica esplicita che sono riletti in chiave spirituale che sono riletti e ti portano a leggere un valore simbolico dei fatti sono di per sé storicamente non affidabili no tant'è che quando sentirete nel terzo incontro il prossimo è il professor Didonè che farà un approccio ermeneutico il terzo incontro sarà del presidente il professore Garofalo presidente di fondazione Cassamarca si riferirà spesso al Vangelo di Giovanni ha sbagliato è un Vangelo teologico è spirituale è simbolico si è sbagliato io ritengo di no ha fatto una scelta molto accurata perché i fatti narrati sono plausibilmente storici riletti nella fede ecco questo è interessante perché se il criterio di storicità è deve essermi raccontato in maniera neutrale sì ma chi è che racconta in maniera neutrale quella volta vi racconto un episodio che racconto spesso ai miei studenti sono stato perché è un episodio che aiuta anche a capire dopo tre celebrazioni della messa la domenica mattina in una parrocchia sono invitato da una famiglia con due figli adesso ne erano quattro ma allora erano due e mi invito ad una pranzo dopo tre celebrazioni della messa si mangia Don Michele c'è Anna Laura che ha da farti una domanda Signore e mi fa la domanda eh ho un dubbio Don Michele ho paura che i Vangeli non dicano la verità ma perché? è perché ci sono quattro Vangeli che dicono cose diverse Matteo Marco Luca Giovanni sì alcune cose sono uguali ma aveva letto i Vangeli questa ragazzina di otto anni allora e aveva accolto che ci sono effettivamente delle differenze chiunque abbia letto i Vangeli se ne accorge e io ho preso un po' dalla stanchezza un po' dalla famiglia non avevi altre domande da fare no non ho detto così era d'estate ed era appena si era appena conclusa un'attività chiamata GREST i gruppi estivi che si fanno nelle parrocchie mi è venuta l'idea geniale forse stimolato dalla fame e ho chiesto allora adesso faccio delle domande io Anna Laura descrivimi com'è stata la festa di chiusura del GREST e lei mi dice ah è stato bello perché abbiamo fatto uno spettacolino lei era la più grande è stato bello perché c'erano i genitori che ci guardavano uno spettacolino di canti, musica eccetera bene chiedo alla sorellina più piccola Emma com'è stata la chiusura del GREST bello perché c'erano i lavoretti che abbiamo fatto esposti i genitori hanno visto i nostri lavoretti perfetto avevo chiesto precedentemente io ero aiutante in parrocchia al vice parroco com'è stata la fine del GREST un trionfo e poi ho chiesto al papà delle bimbe che era responsabile dell'azione cattolica era un GREST tra due parrocchie unificate ma non ancora ben amalgamate e sentendo la mia domanda e avendo in mente che io ero in quelle parrocchie anche per aiutare la collaborazione mi dice c'è stata qualche tensione tra gli animatori delle due parrocchie però dai tutto sommato è andata bene allora ha chiesto Anna Laura chi è stato bugiardo il vice parroco papà tu o Emma perché mi avete detto quattro cose diverse ma siete stati alla stessa festa di chiusura del GREST e lei mi dice ma no abbiamo detto ognuno quello che interessava di più brava e tuo papà mi ha detto quello che pensava interessasse a me tra le tante cose che poteva dirmi quindi ognuno racconta qualsiasi cosa con la sua sensibilità con la sua capacità espressiva se è uno che ha anche capacità di immedesimarsi in quelli che possono essere i suoi destinatari cerca anche di dare risposta a una domanda presunta o anche reale del suo destinatario ecco i Vangeli non sono diversi chi li ha scritti sono stati scritti da uomini che avevano una loro sensibilità una loro capacità espressiva diversa Marco più semplice ma geniale dal punto di vista narrativo Luca più complesso e anche più ricco dal punto di vista linguistico e Matteo più preciso e ordinato Giovanni genio assoluto anche se la lingua non è del livello più elevato e ciascuno aveva in mente i fatti o visti direttamente Matteo e Giovanni oppure sentiti Marco non è neanche lui uno dei primi è discepolo di Pietro secondo la tradizione Luca discepolo di Paolo secondo la tradizione quindi non hanno sentito direttamente ma per dire Luca che non ha non è stato testimone diretto dei fatti offre uno dei racconti più belli quindi non è neanche il discrimine l'essere stato presente fisicamente a testimoniare un fatto non rende più credibile storicamente perché altro episodio che posso raccontare vi è mai capitato che arriva uno che non sa raccontare e dice una cosa ti arriva quello dopo che è capace di vendere qualsiasi elemento non dico vendere fungo ti racconta l'episodio come se fosse la cosa più avvincente del mondo e ti rimani impresso il racconto di un fatto che è lo stesso narrato dei due ma ti rimani impresso quello di chi sa raccontarla ma perché ci ha aggiunto qualche cosa sì evidentemente ha usato un vocabolario più ricco ha usato delle espressioni più coinvolgenti che ne so io ma il fatto nudo e crudo è lo stesso ecco non possiamo accedere ai fatti nudi e crudi ma neanche con la ripresa che state facendo adesso adesso la ripresa riprende me voi non sapete quante persone ci sono in sala non ce ne sono perché non si può ci sono tre persone a distanza di sicurezza quattro vabbè sei ma in una sala che tiene 300 e rotti posti 400 quindi è una cosa che solo organizzatori tecnici vedete che anche quello che sembra un dato oggettivo vabbè è una videocamera che riprende descrive il fatto così come no dipende da come inquadri dipende da cosa inquadri e quindi anche la nostra capacità di comunicare attraverso video che sembra vabbè c'è il video il video a parte che adesso siamo in diretta ma potrebbe anche poi essere sistemato manipolato eccetera quindi accedere al fatto nudo e crudo è quasi impossibile la domanda è ok siamo d'accordo tutti gli studi sull'ermeneautica dicono che ogni cosa che viene detta qualsiasi comunicato che tu faccia ha sempre una dimensione di interpretazione di chi comunica e tra l'altro anche di chi ascolta perché anche quello che sto dicendo io sembra a me chiaro ma ognuno lo sta recependo in base alle proprie precomprensioni nei confronti miei nei confronti del testo biblico nei confronti di qualsiasi cosa dell'organizzazione di fondazione casamarca che ha voluto fare questo evento eccetera ed è chiaro che i fatti che io racconto e che vengono recepiti hanno una interpretazione sempre comunque questo dato che ormai l'ermeneautica a livello filosofico ha chiarito è interessante e gli studi storico critici che negli ultimi due secoli e mezzo almeno in maniera sistematica si sono dedicati a cercare di leggere i testi anche evangelici cercando di capire quale storia reale c'è alle spalle di quei testi hanno portato a delle scoperte meravigliose straordinarie bellissime ma sempre ipotetiche le scoperte storiche ma ipotetiche io ho detto che il Vangelo di Luca è stato probabilmente scritto attorno all'80 85 e anche che il Vangelo di Giovanni è stato scritto attorno agli anni 90 quello di Marco probabilmente tra i 67 e i 70 71 dice qualcuno quello di Matteo anni 80 in base a che cosa come faccio a sapere quando è stato scritto se prendo questo libro vedo che è stato scritto stampato nel 2012 e c'è scritto ma nei Vangeli non c'è scritto tra l'altro non c'è alcun manoscritto originale di quello degli evangelisti i manoscritti più antichi proprio il più antico più antico del Nuovo Testamento è attorno al 135 ed è un frammento del Vangelo di Giovanni 135 dopo Cristo quindi molto vicino alla scrittura 45 anni dopo la scrittura è un frammento mentre la gran parte degli scritti del Nuovo Testamento abbiamo manoscritti del 200 dal 200 in poi perché è perché la pergamena o il papiro prima su cui venivano scritti si consumavano prima che fossero consumati facevano una copia e i papiri venivano di messi non venivano più utilizzati perché non puoi utilizzare lo stesso papiro per troppo tempo e quindi nessuno si è preoccupato di tenere l'originale di Marco di Matteo di Luca di Giovanni non è detto che non siano nascosti da qualche parte perché sono stati scoperti i manoscritti preziosissimi a Qumran a Nag Hammadi i vari luoghi che erano nascosti in una sacrestia per dire e casualmente ritrovati oppure Qumran nascosti in delle grotte per essere protetti e trovati 1900 anni dopo il loro nascondimento e in mezzo al deserto a Qumran presso il Mar Morto nessuno le aveva toccati e si sono conservati per tutti quegli anni ma non abbiamo alcun manoscritto originale dunque noi abbiamo una storia di Gesù che ci è raccontata da quattro testimoni ma vi ho già detto di Emma Anna Laura papà e il viceparroco che sono come i quattro evangelisti ed è normale che ognuno racconti col suo stile con le sue capacità e se ha attenzione ai destinatari intendendo raggiungere quello che dal punto di vista tecnico della narratologia si chiama il lettore ideale non so se sia troppo complesso a quest'ora fare un accenno a cioè un autore reale chi ha scritto il testo c'è un lettore reale che è chiunque leggo in qualsiasi epoca storica io sono un lettore reale chi ha letto nel secondo secolo è un lettore reale ma chi scrive ha in mente quando scrive un lettore ideale io ho in mente qualcuno a cui sto parlando poiché la maggior parte di voi è a casa e non so chi siate cerco di tenere dei destinatari che possono essere interessati a quello che sto dicendo ma vado male a capire chi sono i miei destinatari un evangelista quando scriveva non scriveva per mandare in streaming scriveva per una comunità cristiana per cui sapeva che cosa stava vivendo quella comunità e di quelle tante cose che aveva da dire poteva scegliere che cosa vi porto per andare verso la conclusione al capitolo 20 del Vangelo di Giovanni dove l'autore dice chiaramente perché scrive e che cosa ha selezionato delle tante cose che lui poteva dire perché l'ha fatto capitolo 20 del Vangelo di Giovanni versetti 30 e 31 Gesù in presenza dei suoi discepoli fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro quindi dice potrei star qui ma questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e perché credendo abbiate la vita nel suo nome quindi scrive per delle persone che vogliono interrogarsi sulla fede dice chiaramente la sua fede crediate che Gesù è il Cristo è una professione di fede non è un dato storico è una professione di fede non è un dato storico il dato storico cos'è? Gesù era un uomo vissuto che si è presentato forse come un profeta che qualcuno l'ha pensato che fosse il Cristo che Gesù è il Cristo è chiaramente una professione di fede che l'Evangelista fa e propone a chi lo ha ascoltato a chi ha letto il suo testo il figlio di Dio quindi un'altra lettura di fede io ho visto un uomo che magari faceva dei segni grandi ma la lettura di fede lo porta a dire e perché credendo dice abbiate la vita nel suo nome quindi l'Evangelista dichiara in questo caso alla fine abbiamo sentito Luca lo fa all'inizio Giovanni lo fa alla fine dichiara esplicitamente l'intento con cui ha scritto tutto ciò che ha scritto e anche il criterio in base al quale ha selezionato le informazioni da dare e questo è una scelta che è legittima ovviamente che ognuno può fare e l'Evangelista ha fatto a suo modo dunque la storia di Gesù come accedere alla storia di Gesù il mio suggerimento è preleggiamo i Vangeli perché ci sono delle figure molto interessanti uno è John Mayer che ha pubblicato una serie di volumi sulla questione della storicità di Gesù sono cinque volumi già tradotti in italiano dei tomi che si sono più impegnative ecco prima di leggere quei volumi consiglierei di leggere per intero i Vangeli qualche anno fa ha pubblicato all'interno di un volumetto che è del 2017 ricerca storica su Gesù che raccoglie fa il punto della situazione insomma sulla ricerca storica riguardante Gesù pubblicato da Dioniane Bologna sono due biblisti e un teologo e Sto Mayer fa all'interno di questo volumetto da un suo contributo e dice all'interno del mio del mio lavoro di ricerca un ebreo marginale cinque volumi ho scoperto una cosa interessante sono partito dice così intendevo scrivere un unico volume sul Gesù storico come prolegomeno non come introduzione a un commentario al Vangelo di Matteo quindi questo è partito con l'idea di per dare il quadro storico faccio una introduzione ampia al Gesù storico per poi fare un commentario sul Vangelo di Matteo e non c'è riuscito ha fatto un primo volume ha fatto un secondo volume introduttivo un terzo volume un quarto volume introduttivo un quinto volume l'ultimo che è stato pubblicato in italiano che è sulle parabole devi scrivere tutte queste cose per capire il titolo del testo in italiano è un ebreo marginale Gesù un ebreo marginale ebreo giusto per il mio amico cristiano che andava in crisi perché l'altro amico ebreo gli diceva che Gesù è ebreo ebreo lo dice Matteo e dopo cinque volumi di ricerca Meyer dice che Gesù era ebreo diciamo che Gesù non era cristiano no cristiano è quello che crede in Gesù come Cristo e quindi Gesù non poteva essere cristiano era un ebreo che ha manifestato secondo la fede cristiana un volto di Dio che è quello dell'Antico Testamento però resa in pienezza dalla sua umanità mediante lo spirito un ebreo marginale i Vangeli dicono chi viene messo a morte tra due ladroni con un gruppetto di discepoli che spariscono stanno a distanza e due cripto discepoli vanno a prenderne il corpo per seppellirlo e dopo non si trova più e alcuni dicono che è stato portato via altri dicono è risorto marginale quindi dopo pagine e pagine di studi che sono illuminate da dati di fonti extra bibliche da scavi archeologici da studi storico-critici Meyer descrivendo Gesù effettivamente dice guarda che se leggi i Vangeli hai un'idea abbastanza plausibile storicamente di chi era questo Gesù interessante e Don Stefano di Donè la volta prossima parlerà della ricerca sul Gesù storico mostrando come la ricerca storico-critica quindi non viziata uso volutamente un termine che non è corretto non viziata da una lettura di fede una ricerca storico-critica che sia oggettiva uso anche questo caso un termine volutamente non corretto dovrebbe portare a trovare dati su Gesù storico incontrovertibili su cui tutti sono d'accordo il professor Carofalo ha letto vari testi per ricostruire il processo di Gesù ha trovato che ci sono tante ricostruzioni di Gesù storico a partire dai cosiddetti dati oggettivi perché perché i dati cosiddetti oggettivi in realtà sono sempre interpretati da una precomprensione qui sarebbe interessante leggere ma non lo faccio in questo volumetto che citavo il Meyer in un contributo dice vi descrivo il percorso che ho fatto nel mio quinto volume che riguarda le parabole di Gesù che tutti gli studiosi dicono beh guarda le parabole sono tra le parole riportate nei Vangeli che sicuramente in maniera indiscussa sono di Gesù non sono tutte di Gesù no tutto quello che è riportato nei Vangeli è scritto da degli evangelisti che riferiscono le parole di Gesù due testimoni oculari due Marco e Luca neanche testimoni oculari di chiaro che non sono proprio registrazione ma Meyer dice no ma le parabole tu trovi vari studi che dicono è indiscusso che le parabole sono sicuramente parole di Gesù e lui nel suo libro mette in discussione anche questa sicurezza adesso non sto qui a leggere le argomentazioni ma sono abbastanza sette sette tesi che lui ha che definisce in attuali non di moda perché perché scombinano e però cita un paio di di studi seri accurati in cui si parte da questo presupposto è chiaro che le parabole sono riconosciute da tutti come le parole che Gesù probabilmente ha pronunciato è una pre comprensione storica una pre comprensione letteraria è una pre comprensione vera o non vera adesso non sto a discutere ma è evidentemente una pre comprensione perché qui gli studi partono da questa idea e poi cosa dimostrano è vero le parabole sono le parole che sono più probabilmente state pronunciate da Gesù in quel modo perché corrispondono a quello che poteva essere il suo stile è interessante questa cosa a mio avviso che uno che ha dedicato la vita a cercare di ricostruire un una descrizione della storia di Gesù del Gesù storico per quel che può essere liberato dalle pre comprensioni teologiche che chiaramente caratterizzano i Vangeli dico chiaramente perché li hanno scritti solo perché erano interessati a sostenere la fede delle comunità cristiane cioè chi ha scritto quello aveva in mente Luca lo dice Giovanni lo dice Marco e Matteo non lo dichiarano però si capisce da come raccontano che quello era lo scopo allora provando a togliere questa precomprensione ti accorgi che per interpretare fatti di duemila anni fa alla luce dei Vangeli alla luce dei ritrovamenti archeologici alla luce di testi extra biblici ma non dicono granché dell'epoca di Gesù Giuseppe Flavio parla dell'epoca di Gesù ma non parla di Gesù c'è un passo il testimone Flavianum che però molti dicono è stato aggiunto dopo dai cristiani e quindi non vale Giuseppe Flavio sì è dell'epoca ma quel testo è possibile che sia stato aggiunto in seguito quindi non nomina mai Gesù quanto importante era questo Gesù all'epoca se un grande storico che nomina Giovanni il Battista a Giuseppe Flavio descrive chiaramente l'uccisione di Giovanni il Battista a Maccheronte una delle quattro fortezze di Ero del Grande costruite da Ero del Grande e di Gesù no una testimonianza che però molti mettono in discussione come ecco questo fa comprendere come la ricostruzione storica rimarrà necessariamente ipotetica ma non è un peccato non è una cosa sbagliata è che la storia si ricostruisce così illuderci di avere il dato storico non interpretato è un'illusione vogliamo ma senza far politica ma rileggiamo come ci è stata raccontata la storia della post guerra e come viene continuamente riletta oggi partigiani perché ogni volta è una polemica solo per motivi politici o per motivi da che punto di vista rileggi quella storia ovviamente ci sono anche i motivi politici ma dipende da che prospettiva rileggi la storia da quale lato la bellezza della liberazione o anche alcune ingiustizie che sono state commesse anche in qualche caso dai partigiani ma comunque era meglio essere liberati non discuto però negare che sono stati commessi dei fatti gravi anche da una parte che è quella che noi abbiamo sostenuto e ringraziamo il Signore perché abbiamo anni di pace da allora però negare ma una certa narrazione aveva tentato di negare alcuni fatti che però mi pare siano abbastanza indubitabili vedete la storia questo è noto ormai ma quello che è noto per la storia cioè che tutti i fatti sempre sono interpretati sembra essere un problema per i Vangeli mentre anche i Vangeli sono interpretati i fatti a cui si riferiscono i Vangeli sono è chiaro questo lo dico e non lo nego letti da persone credenti pensati per persone credenti e interpretati in questo modo che questo tipo di lettura neghi la storicità dei fatti raccontati è tutto da dimostrare l'interpretazione il valore simbolico il senso che io colgo dal fatto è una mia interpretazione che ti propongo dice l'Evangelista e che tu puoi accogliere nella fede questo sì il senso perché io do questo senso te lo propongo e da duemila anni questo senso sostiene la vita di milioni di credenti ma questo non è di per sé la negazione della storicità dei fatti che ci stanno alle spalle e chiudo con un riferimento a un autore a me caro mancato qualche anno fa Don Giuseppe Segalla forse qualcuno di voi l'ha conosciuto è un grande biblista della diocese di Padova un grande uomo prete studioso della scrittura dell'opera giovannea e della teologia biblica e dell'etica biblica ma anche un grande uomo di carità che ha sostenuto le missioni in India con una passione straordinaria e verso la fine della vita gli avevano chiesto all'edizione di Oneani di Bologna di fare un'introduzione al quarto Vangelo Vangelo di Giovanni e l'aveva pensato in alcune parti primo il quarto Vangelo come storia secondo il quarto Vangelo come opera letteraria terzo il quarto Vangelo come teologia della narrazione storica di Gesù Vangelo come storia Vangelo come opera letteraria quindi analizzava le forme letterarie e poi teologia della narrazione storica di Gesù purtroppo il tumore che l'ha portato via un po' prima del previsto non gli ha permesso di fare la seconda e la terza parte ma lui aveva lasciato detto beh se non ce la faccio perché tra l'altro l'ho sentito anch'io negli ultimi momenti della sua vita era molto consapevole della propria situazione di salute e con molta libertà diceva sai che ho un tumore perché non so quanto quanto arriverò io che pensavo che fosse una cosa però finché ho vita io lavoro per questa cosa con una libertà che mi ha commosso e anche edificato comunque ha detto se anche non arrivasse a fare il resto c'è l'indice completo dell'opera pubblicate il quarto Vangelo come storia perché perché dagli studi che lui aveva raccolto dai suoi stessi studi era arrivato a dire il quarto Vangelo il più teologico il più spirituale il più simbolico in realtà è quello che ci permette di accedere ai fatti storici più incontrovertibili riguardanti Gesù con questa memoria di Giuseppe Segala e della sua opera vi saluto vi ringrazio per l'attenzione e le domande un'altra volta perché non so chi possa farmele buona serata